Siamo la trentatresima domenica che ormai ci avvicina sempre più al tempo di avvento, all'attesa del Signore che viene. Non sempre le parabole che Gesù racconta sono come un liquore che si assaggia e si gusta, a volte le sue parole sono aspre, un qualche cosa che disturbano, sono come pietre che lanciate feriscono a volte e non bisogna sempre aspettarsi che Gesù abbia queste parole dolci che acquietano, a volte ascuotano, a volte feriscono. E questo Vangelo che parla dei talenti, che non c'entra ovviamente con l'economia, sono i talenti, cioè i doni che il Signore ti ha fatto, il Signore che ti ha messo davanti questo banchetto imbandito di cose buone che sono la tua vita ultimamente e che tu devi in qualche modo sfruttare, devi mettere a disposizione. Parla di talenti, cioè Dio ti ha dato qualcosa, ti chiede conto di come li ha impiegati questi talenti. Noi molto spesso questi talenti non li investiamo bene, cioè non investiamo bene la nostra vita. L'imprenditorialità di cui Gesù accenna nella parabola dei talenti non è di tipo appunto economico, finanziario, ma di accoglienza del dono della salvezza. Dobbiamo capirli così la pagina del Vangelo. Ti chiede piuttosto che cosa ne hai fatto dell'incontro con Gesù iniziato con il battesimo. Questo è il grande talento che ha cambiato la vita, che ha toccato l'ontologia, cioè l'essere profonda della persona. E come la parabola delle dieci vergine di cui abbiamo parlato domenica scorsa, la domanda di Gesù a ciascuno di noi è perentoria. È così perentoria che appunto la sua parola può sembrare una pietra che scalfisce la vita, che ne hai fatto dei doni che ti ho dato, come hai speso o impiegato i talenti che ti ho proposto. Dunque San Paolo ci viene in aiuto e ci chiede quando ti viene fatto un dono hai bisogno da parte tua di vigilanza, di attenzione, quasi una trepidazione interiore di fronte a quello che ti è stato donato. Non dormiamo dunque come se questi talenti il Signore non ce li avesse dati.